Sto correndo per rendere noto i risultati di oltre mille indagini cliniche che abbiamo fatto. Siamo riusciti a individuare i corpi esterni che non appartengono al corpo umano, molto piccoli. Les incinerateurs sono des fabriques di poison. La verità bisogna cercarla. Quando vedete incinerateurs, hai corruzione politica. C'è la filtra, la corruzione. La verità bisogna cercarla.